Il Centro Trasfusionale del Ruggi a Salerno accoglierà i donatori che intendono rispondere all'appello dell'AIL questo fine settimana dalle 8 alle 11 e 30. Un gesto essenziale per aiutare chi lotta contro patologie come la leucemia. La ricerca scientifica ha fatto enormi passi in avanti in questi anni sul fronte delle cure, ma il bisogno di sangue per chi ha queste patologie resta una necessità vitale. Di qui la campagna di sensibilizzazione che sta facendo l'associazione che spera di contribuire a far crescere il numero di donatori che ha subito purtroppo una pesante riduzione negli ultimi due anni per la paura di contrarre il contagio recandosi in ospedale. La donazione sangue è fondamentale, un paziente malato di leucemia ha bisogno di sangue e ha bisogno di voi e le persone, i liberi cittadini sono degli eroi perché possono salvare una vita. Questa pandemia purtroppo l'ha bloccata quasi del tutto la donazione? Purtroppo la pandemia ha spaventato le persone ad avvicinarsi in ospedale, invece gli ospedali e soprattutto il centro trasfusionale del Ruggi di Salerno dove noi faremo la nostra campagna sangue il primo sabato e la prima domenica di febbraio sono posti sicuri dove possono venire i donatori e essere tranquilli e sereni di poter donare. Grazie Grazie